C'è un po' per sempre che stia non mangi, ma solo... stiamo giocando in difesa e quindi li prendiamo tanto bene e quindi che gruppo di merda quanto cazzo ha fatto valla cioè ha fatto più Artanis che ma guarda che la sediatrice scusami ma quanto ha fatto valla lì di cosa ha fatto 9k più di me è morta 5 volte ricontiniamo qua giù e speriamo la connessione e speriamo nella connessione la connessione Grazie a tutti 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 I Grazie a tutti 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 Yeah Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti